Sto preparando il bossone perché sono invitato un evento a uscerno vicino ad ascoli piceno per un party ride di enduro e gravel adesso appuntamento con il sic che sono curiosissimo di andare a vedere questi tre Sì Allora partiamo subito con una salitina leggera dolce Abbiate pazienza vai di là Allora c'è il vicino di casa che va dalla vicina e gli dice ho dei dolori di pancia che mai non è che hai la bossa dell'acqua Sono andato a prenderla la mia e la sfonda La vicina gli fa guarda non ce l'ho mi dispiace però io faccio così prendo il mio gatto lo metto sulla pancia lui se dormita lì funziona benissimo Ti presto il gatto il giorno dopo suona di nuovo a casa della vicina Arriva era tutto insanguinato tutto raffiato Ha detto guarda ma cos'hai combinato Guarda lascia stare sin che gli ho messo l'imbuto in bocca tanto tanto ma quando gli ho buttato giù l'acqua calda Continuiamo Allora questo è il primo trail si chiama Tres Dias Allora mister qui dove siamo? Qui siamo nel roccione di Ficocchia che sarebbe il paese qui a fianco Ah quello è il Montevettore Che spettacolo E quindi è tutta la visuale sui monti della laga e in fondo anche se oggi è un po' nuvoloso si vede il Gran Sasso Quello lì in fondo Quello Gran Sasso si vede si vede si si Quindi si prende quasi mezzo appennino No ma te mi fai passare lì? Si si però è largo è almeno 40 centimetri Come 40 centimetri? Il punto più largo Ecco Mi fate cagare addosso mi fate cagare addosso Ora sì che qui c'è stato un terremoto no? 8 anni fa 8 anni fa E lì c'è il punto Montegallo si chiama? Si Dove c'è stata quella scena dei cozzatori? Si esatto dove si muovevano tutto tutti i cespulli si muovevano Questa è ammazzata la gente ragazzi Questa è ammazzata la gente Questa è ammazzata la gente Guarda il vettore Guarda il vettore Era tutta la vallata quella che incoerano Quella zona lì E quella è il Montevettore dove c'era l'epicentro del terremoto praticamente La parte dietro della montagna quindi il versante che dà sulla piana del Castelluccio C'è una faglia proprio la montagna tagliata Con una spaccatura profonda 4 metri C'è tutta la montagna è proprio spaccata Quindi è una violenza inaudita Mamma mia Adesso insomma se ne stiamo uscendo Dopo 8 anni ci siamo dai Finito il 110 Quelli ditte iniziano a lavorare anche per il terremoto E fortunatamente gli abitanti iniziano a riprendere le loro case Ho capito Sono 8 anni ma un po' troppi Eh dai direi che sono un po' troppi La cosa però è stata molto estesa però Bisogna riconoscere che è stata estesa ecco da Amatrice qui fino a Camerino Cioè quindi ha preso un'area enorme E' abbastanza Che ha fatto danni importanti quindi Ci sta Dai va bene oggi oggi guardiamo di divertirci Via 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 Che spettacolo Fantastico Oh Vado piano raga Perché voglio godere il panorama Che figata no bellissimo no 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 ma cos'è ma cos'è no raga bellissimo un grande spettacolo no bellissimo non è 40 centimetri cinque mi preso in giro grande ciao no ragazzi veramente veramente aspettate mi devo fermare perché non troppo bello troppo bello quello al monte vettore sempre guarderci che guarderci che oddio sceso lì io vai come funziona qui ok che bello mi sto cagando addosso dalle vertigini ma una roba incredibile emozionantissimo ciao e poi con la gomma bucata dietro da ancora più gusto ne si è rotto il flap quando stava venendo qua ma sarà roba sarò fatto all'interno solo bus all'interno mi sono cagato ragazzi però un po di dopo di devo cambiare allora ragazzi faccio vedere la linea è una roba da provare venite qua perché ci sono dei tre il fantastici poi questa roccia qui non scivola potete girare in qualsiasi condizioni neve freddo inverno acqua eroe non male super tecnica non radici leggermente polverosa ma con le gomme giuste zero problemi da lavorare di braccia io adesso vado piano perché sono tenuta da visitatore bello qui bello bellissimo figata mamma mia come è tecnica vero vero eh bello qui figata e adesso qui cosa c'è c'è un bel muretto che devi mollare via molla molla lori grande lori grande lori mi cagato noci però abbiamo fatto sì che non hai goduto è ora col muretto lì esatto infatti io sto dietro fortuna che c'era lui davanti il presidente quasi no qui c'è una serie di tornantini strettissimi molto tecnici quasi trialistici bello allora per fare i giri vi consiglio di partire sempre da uscerno perché da qui portano tutti i trail giusto esattamente ok quanti tre ci sono più o meno sono 5 5 ok diverse difficoltà alle più semplici alle più croccanti adesso andiamo a fare quella più croccante costinino costinino va bene dopo in descrizione metto la traccia gps del train che posti ragazzi bellissimo sempre sotto monte vettore c'è una pace qui che da noi ce lo scordiamo questo segnale che colore nero bandidos mi fa un po paura questo dal video non si rende conto però sante gambe ha sgambettato poi continuiamo questo è super tecnico ogni tanto c'è un po di fiato qui ma ci sono dei passaggi veramente da pelo bisogna stare un po sveglie perché è anche un po polverosa ma con le gomme buone no problem hai fatto la chicken e io ti seguo meno male che c'è la chicken line passaggi davvero trialista un bello tecnico radizione questo è un po più croccante io sono arrivato piano ma questo da prendere un po veloci perché sono andati in punti fortunatamente sono riuscito a dare due pedalate per passare di là e poi la c'è un altro gap grande chicken yeah 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 allora banditos è stata tosta e sì che però purtroppo non ci sono le chicken line quindi se a parte ci che si cercate di primo giro di andare piano provarla piano poi dopo se lo sentite la fatta è tutta perché ci sono dei ben ripidini ci sono due o tre passaggi da studiare bene ecco per dire metterle ruote esatto e chicken cosa combina mi mancava anche questo adesso adesso andiamo a fare Cossinino che al presidente gli piace molto hanno detto il presidente è innamorato innamorato è innamorato ciao se ci sono l'angola c'è stato è bella bella ho rischiato la morte questo passaggio è veramente bestiale molto stretto, un canale strettissimo adesso dalla telecamera non rende devi passarsi proprio millimetricamente si mancava che la tendinite adesso facciamo il polso sinistro che praticamente non ho forza sulla mano sinistra mi tocca godere metà purtroppo comunque raga trail meritano una visita qui sono pettinati a lucido e molto divertenti soprattutto a chi piace il tecnico è ideale posti meravigliosi una visita a uscerno è d'obbligo allora ci che siamo arrivati cosa dici? bellissima giornata stupenda i ragazzi sono fantastici giro panoramico da paura bello 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 grazie Alessio e Massimo ci sono stati veramente gentili per averci accompagnato un infortunato un anziano adesso ci siamo divertiti ciao a tutti ciao 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 ok bye Allora! Yeah! See ya? See ya? Grazie a tutti.